Ben trovati al consul d'appuntamento con il fatto del giorno. Oggi, come spesso accade, più che un fatto specifico, proponiamo un tema attraverso un incontro con Tony Campo, che ringraziamo per essere qui con noi, che salutiamo. Tony Campo, fotografo, un fotografo conosciuto anche a livello internazionale, anche se è legato un po' la sua arte fotografica ad un mondo preciso, che è quello della moda, ed è da quello che gli derivano anche dei riflettori, cioè della cui luce può brillare. Ne parliamo perché, proprio in questi giorni, è protagonista di una iniziativa importante, una mostra a Chiera Montegolfi, allestita per l'altro in una chiesa, e che ha un significato particolare. Intanto c'è una finalità benefica, mi pare, la destinazione del ricavato ai disabili psichici. Ma noi partiamo comunque dal senso del lavoro di Tony Campo, della sua attività, della sua produzione, e anche dalla connotazione distintiva, cioè dei temi di questa mostra. Allora, questa mostra perché? Perché, esatto. E poi perché in inglese vuole viaggiare per tutto il mondo? Allora, io seguendo, esatto, il concetto è un po' quello, tra l'altro anche, seguo un po' il consiglio del mio amico Roberto Valdes, che so che è stato qui, quindi giustamente lui dice, è la realtà. La Sicilia è una bellissima terra che ha ispirato moltissimi artisti, e quindi va resa internazionale, è un linguaggio internazionale e l'inglese, quindi da qui il titolo My Soul, My Eats, Negative, Positive, cioè negativo positivo. Le mie teste, le mie anime. Questo progetto è nato dopo l'incontro con questi ragazzi, che io li chiamerei diversamente abili, di Pietrangolare, che dallo scarto della pietra, dei marmi, loro realizzano questi mosaici stupendi. E mi ha colpito come la loro delicatezza nel rompere la pietra, nel prendere quei pezzettini di pietra e comporre delle figure di santi, dei mosaici. Lì ho detto, ma la loro anima, quanto è bella, capito? Quindi tutto è partito da quella riflessione? Tutte partite da lì, sì, perché poi vedevo queste teste di santi, perché stavano facendo un mosaico bellissimo per una chiesa di Palermo, che ieri Leonardo Damigella mi accennava, adesso non mi ricordo bene qual è il nome di questa chiesa, però un lavoro bellissimo, che io paragonerei anche alla cattedrale di Monreale, per dire, nella perfezione, nella maestrosità in cui era fatto. Lì, quindi, le facce di questi santi e la tenerezza di questi ragazzi mi ha portato a creare delle teste, a fare delle fotografie a tutta una generazione di teste, non solo a questi ragazzi diversamente abili. Quindi siamo partiti da un bambino di tre anni fino ad arrivare all'anziano di 83 e fotografare appunto questa scatola la custodia dell'anima, che è la testa. È stata contornata da un turbante per ricordare la mediterraneità, quindi giustamente sono tutte teste made in Ragusa, sono tutte persone che io in qualche modo conosco e visto appunto che l'anima risiede all'interno della testa, questo è un mio parere, e gli occhi sono la porta dell'anima, le soglie, io ho voluto appunto concentrare l'attenzione in queste fotografie soprattutto sugli occhi, utilizzando una luce sbagliata. Luce sbagliata, me lo dicevano questo quando io studiavo a Milano in fotografia, non usate mai la luce dal basso, perché nella natura la luce si è abituate a vederla dall'alba al tramonto, la luce dal basso non esiste. Però la luce dal basso illumina l'occhio in una maniera eccezionale, perché è come una lama che viene dal basso, quindi noi avendo la palpebra sotto un po' più piccola rispetto a quella sopra, in una determinata posizione l'occhio si illumina e da lì in qualche modo cerchi di capire l'anima del soggetto che è davanti. Da qui il discorso di negativo positivo, perché come la vecchia fotografia quando esistevano i daguerrotipi, c'era un negativo e un positivo, ma anche con le tecniche prima del digitale si sviluppava il negativo, lo si guardava così in lontananza per capire se era giusto esposto o meno e poi si faceva la stampa. Nel negativo io ho notato che mettendolo vicino ci sono dei bassi contrasti di luce, quindi dal chiaro al nero, con tutta una sfumatura di grigi, però in base a come il soggetto che è stato ritratto si trovava, in base alla situazione, se era felice, se era arrabbiato, eccetera, lui contraeva dei muscoli e quindi la luce in quei muscoli creava delle ombre più nette, dei bagliori più... Allora questo progetto è nato in seguito a quella riflessione istantanea di quel momento, di quell'istante, e quanto è durato questi scatti, in quale arco temporale sono stati compiuti? Nell'arco di sei mesi, sei mesi tutti, poi io li ho un po' accantonati perché io uso fare che scatto le foto e poi me ne devo dimenticare anch'io di quello che ho fotografato, in modo che quando poi li riprendo in mano, li guardo al computer, divento molto autocritico. C'è una forza nuova e anche una consapevolezza interiore autonoma. del lavoro che ho fatto, mi devo stupire, cioè così, dalle stesse foto. Quali luoghi, gli ambienti, i mondi in cui sono state cercate queste facce, questi occhi? Allora, molti familiari e amici, ad esempio io ho una zia cieca che è stato molto interessante fotografarla perché lei ovviamente non avendo la vista ha sviluppato altri sensi e quindi stare davanti a un obiettivo sotto le luci, in qualche modo le ero un po' agitata, alterata, quindi gesticolava un po' con le mani, non stava ferma, era irrequieta. Il bambino di tre anni abbiamo fatto molta fatica a farlo posare per due o tre minuti, però guardandosi il negativo che il positivo si coglie proprio tutta l'ingenuità del bambino. Poi siamo passati per delle fasce dai 6 ai 13 anni, fino ai 18, fino ad arrivare al nonno di 83 che proprio tu leggi sulle rughe del viso, eccetera, proprio la vita passata. Quindi un po' è stato fare una radiografia voglio dire a questa generazione umana. Rispetto all'istante in cui quella idea è nata, questo progetto quindi ha cominciato appunto a vivere, cosa ha scoperto Tony Camp? Ha trovato qualcosa che non aveva pensato? Cioè è stato sorpreso? Oppure è stato naturale? Allora, no, sono rimasto sorpreso soprattutto ieri sera all'inaugurazione quando vedevo tutta tutta la gente che comunque guardava le foto e in qualche modo poi veniva a dirmi esattamente quello che io volesse che loro mi dicessero. Quindi voglio dire quella foto, ma quel ragazzo era arrabbiato in quel momento, cioè quella persona ad esempio sì, anziana, ma è un bonaccione all'interno. Quindi voglio dire un'immagine fotografica deve trasmettere qualcosa secondo me. Soprattutto in quest'era in cui siamo bombardati di immagini dal web, quindi non c'è tanto un'educazione all'immagine. E quando in una mostra del genere con varie tipologie di gente, dalla gente comune alla gente che ne capisce, percepiscono la stessa emozione, sensazione da quell'immagine, per me è stato un successo questo. E non ci credevo tanto, perché molte volte io dico ma forse vedo solo io questo, e invece no, ieri sera è stato in qualche modo un trionfo per me. Io poi fino alla fine, sai, sono il primo che non crede nelle mie cose. Posso dirti nella mia carriera forse una quindicina di foto salverei, di quelle in cui li guardo e dico non riesco a trovare un difetto. Ma quelle quindici allora avranno una importanza straordinaria? Sì, quelle quindici ancora, infatti ce le ho esposte a casa mia. Ma resisteranno anche nella esperienza futura della vita? O il numero di quelle che Tony Campo salverebbe si assottiglierà successivamente? No, io spero e mi auguro che non si assottiglierà anche perché ci sono altri progetti in ballo. Io lo dicevo a proposito di questa forza autocritica che è sempre una precondizione straordinaria per fare bene, per toccare vette eccellenti. Non lo so, non ti so rispondere a questo. Ma a proposito di questa, allora, questa mostra però, in quale rapporto si pone con tutta l'attività un po' più nota e più conosciuta, insomma, convenzionalmente unitaria e coerente di Tony Campo? Sì, io guarda, allora, sono andato a Milano, lavorato per la moda perché la moda era il settore che ti pagava di più, voglio dire, per vivere. Io so fare moda, ma non mi piace essere il modaiolo, capito, quello che veste sempre. Ho avuto una scuola, grazie a Franca Sozzani, che lei appunto, come dire, una cosa brutta deve diventare bella. Quindi lei mi ha in qualche modo insegnato a vedere anche nelle cose brutte il bello. Io con la moda ci ho vissuto, però poi a una certa età uno pensa non più alla quantità, ma alla qualità di vita, no? E quindi questa scelta di ritornare nella mia terra d'origine, da quando è che hanno aperto l'aeroporto, perché da Catania mi veniva un po' difficile pensare di fare da spola Vittoria Catania tutti i giorni o una volta a settimana. e quindi ho deciso di ritornare qui proprio perché la terra mi ispira. Mi ispira i tramonti, il mare, a Milano. Per ispirarsi bisognava andare o all'idroscalo, sperando che la giornata era buona, oppure guardare le Alpi, sperando che se non c'era la nebbia, se c'era la nebbia tutto il comiso, non è che Tony Campo poi cambia. No, no, vabbè, Andrea Catania. Io comunque tutti i mesi vado a Milano, lavoro, adesso ho iniziato a collaborare per questa nuova rivista che è diventata anche cartacea, che è Squire Italia, una bellissima rivista anche per cambiare un po', per sempre Vogue, l'uomo Vogue, eccetera, è giusto anche vedere altre. Allora cerchiamo di capire un po' il rapporto tra questi vari percorsi, quindi fotografo di moda, della moda, per un primo approccio professionale, anche sicuramente fortunato, vincente, arredditizio più che in altri campi sicuramente, e però poi l'insufficienza di questa esperienza professionale e artistica e quindi anche la necessità di esprimere altro. Ma la moda com'è intanto? Che mondo è? La moda, allora, bisogna essere proprio pazzi per la moda, no? Proprio come quando le bambine da piccole giocano con le bambole, è la stessa cosa. Io ho conosciuto dei direttori importanti che per loro un abito, cioè passerebbero le giornate a guardare il loro guardaroba, solo anche a toccarlo, a sistemare gli abiti, mettere per colore, sfumatura colore, cioè bisogna avere proprio una passione per essere il guru della moda. A me piace questo, però vederlo fare agli altri, farlo personalmente no. E quindi voglio dire, io preferisco più le cose, non vorrei dire concrete, le cose più originali dell'uomo, no? Il vestito, se noi andiamo a vedere, l'importante è non avere freddo, no? Che abbia una funzione, che poi sia a quadretti, che sia a righe… Comunque detto da chi, come dire, si è trovato ad esaltare, cioè tutte le dinamiche… Sì, no, io ad esempio ho visto, dopo Valentino Garavani… È una testimonianza importante questa… Sì, sì, io ad esempio ho visto, ad esempio, Valentino Garavani, secondo me, il sarto per eccellenza, cioè i vestiti di Valentino Garavani, tu potevi anche roversiare al contrario… Intanto diciamo che parliamo di Valentino, magari siccome tutti conoscono come Valentino, magari penseranno che sia un altro, con questo cognome sicuramente meno noto del nome, no? Valentino. Valentino. A cui Tony Campo ha dedicato anche un'opera importante. Allora, io sono stato chiamato per realizzare, lui alla fine della sua carriera ha voluto celebrare così la sua carriera con questo libro edito dalla Taschen, bellissimo, sono stato per tre mesi a Roma, chiuso a Palazzo Mignanelli, dove c'era tutto l'archivio storico, molte dive hanno riportato i loro capi d'alta moda, pezzi unici, lì alla Maison Valentino, proprio per essere fotografati, io li ho fotografati su un manichino, Valentino ha voluto proprio che non fosse la modella ad indossarlo, perché tanto c'era nella storia tutte le campagne storiche che Valentino ha fatto, però proprio vedere solo l'abito, quindi in questi manichini creati apposta dal collo lungo e devo dire che in alcuni abiti se non avevamo come riferimento il disegno originale di Valentino, non riuscivamo a capire alcune volte qual era il dritto e il rovescio, perché anche lui poi non attaccava l'etichetta come si usa sempre nello stesso punto, in base a come era lavorato l'abito noi ci trovavamo l'etichetta possibilmente qui sul seno e lì andavamo nel panico, quindi guarda il disegno di qua e di là, potevi anche rovesciarlo al contrario che era un abito perfetto, lui aveva 300 sarte a capo di due manquenne ed era tutto sartoriale, quindi dopo aver conosciuto Valentino capisci che per me avere altri riferimenti come stilisti è un po' difficile. A proposito di questo lavoro, parliamo delle pubblicazioni anche di Tony Campo che non ha fatto soltanto fotografie di Modelo, questa comunque è un'opera che riguarda quel mondo ma con uno spirito e con occhi diversi, quasi un lavoro come dire storico giornalistico, seppure esaltando un aspetto particolare con gli occhi di chi ovviamente ha conosciuto dall'interno quel mondo, ma ci sono anche tanti lavori, tante proiezioni dell'attività di Tony Campo che invece presuppongono una sensibilità sociale sicuramente, culturale e tucur, ma anche come dire civico-politica, per esempio mi riferisco anche a quell'opera sulla Sicilia, sulle bruttezze e le bellezze della Sicilia, queste cose come interagiscono con Vogue e il Tony Campo insomma più conosciuto. Ma all'epoca, voglio dire, io ho fatto questo libro, una raccolta di fotografie, molto reportage, alcuni erano dei fotoromanzi, li ho chiamati perché erano proprio delle scene simulate, col tocco fashion, cioè infatti ho voluto presentare una Sicilia moderna perché su al nord, anche merito di alcuni fotografi, Toscania ad esempio che ha fatto una campagna che fece un po' parlare molto all'epoca, c'era se non sbaglio la scifra Naomi che accanto a delle signore siciliane e sotto c'era scritto la bella e la bestia e le bestie, e lì mi ricordo, però Toscania ai suoi tempi poteva osare su questo, quindi la Sicilia io mi accorgevo… Oggi diciamo che non lo potrebbe fare più perché comunque ci sarebbe una insurrezione più forte, direi proprio di sì, all'epoca si poteva fare, quindi poi mi sentirei, ma ancora da voi ci sono le signore nero? Ci sono le nonnine nero, allora mi è scaturita questa cosa di creare un po' una città teatro, un po' come fece Bufalino a Comiso, presentando proprio la gioventù, come si vestiva, cosa faceva durante la giornata, le signore quelle sedute ancora vestite di nero, che comunque non sono quelle che immaginavano loro, quei baffi o la lupara sotto le cose, e quindi è nato questo libro bellissimo, a cui ho dedicato il titolo è Fumi, lusse e miserie del mio paese, che è una frase tratta dal libro Museo d'Ombre di Gesualdo Bufalino, che ho avuto anche il piacere di conoscere, e mi disse all'epoca, guarda a me la scrittura, la voglia di scrivere, mi è venuta proprio, ho trovato delle fotografie in questo palazzo di fronte lì, la Vello Archidea, adesso non mi ricordo come si chiama quel palazzo antico, trovo queste fotografie antiche e lì gli venne la voglia un po' come dire di scrivere. Eh sì, perché comunque il Bufalino che magari tutti conoscevano nel suo piccolo mondo privato come insegnante, tra i tanti che ci sono nelle scuole, ma per l'attività di pubblicazione, tutti lo conoscono per quel primo scritto che era appunto, che fu una prefazione ad un libro di fotografia della vecchia Coniso, no? E quindi sicuramente appunto questo aneddoto si riferisce. No, lui scrisse l'Ingeria dell'Untore all'epoca, come cosa, e poi il Museo d'Ombre credo che lo scrisse qualche anno dopo, eccetera. E quindi ho voluto proprio presentare questa Sicilia, perché poi le foto sono state fatte tra Comiso, Ragusa, Ibla e anche Monreale e Palermo, perché lì io avevo delle amicizie che potevano sostenere questo lavoro impegnativo, perché non essendo Milano, voglio dire, servono varie strutture, delle cose, quindi alla fine è venuto un bel lavoro. E allora, attraverso tutti questi anni della presenza al Nord e anche per l'affermazione professionale, qual è il rapporto con la Sicilia che c'è stato, che si è mantenuto, ora magari riesploso proprio con il bisogno di tornare, ma a distanza com'era? A distanza com'era, a distanza com'era, io quando creo delle cose come punti di riferimento sempre la Sicilia, non ce n'è. Ispirarmi a Milano, cioè prendere… Milano è una città bella perché c'è l'eleganza nel vivere, no? L'eleganza nello stare insieme, qui invece tutto un po' più in alcune situazioni, non tutto è così, è un modo di vivere più, direi, più vero meno formale, no? A Milano è un po' più formale meno vero, ecco. Quindi voglio dire, io la Sicilia l'ho sempre portata con me nel cuore, sia quando sono scappato da qui, sono scappato perché nel lontano 89, sì, qui io guardavo queste belle riviste di moda, still life bellissime, facevo ma come si fanno, come posso fare a farle? Quindi qui come riferimento avevo il mio fotografo del paesino, l'altro, che non c'era, cioè non c'era modo di prendere, di confrontarsi, no? E quindi io compravo questa rivista, si un'istituto europeo di design a Milano che formava fotografi, allora dopo il militare io sono ritornato giù, ho disfatto la valigia, l'ho rifatto e sono riandato su, ho fatto tre anni di fotografia, corso di fotografia e poi gratuitamente seguivo tutti i fotografi importanti che a me piacevano, perché tanto uno come assistente non gli chiedevo nemmeno soldi, ma a me non interessava, però poter vedere come, che ne so, Giampaolo Barbieri o Toscani, Giovanni Gastel lavoravano, era per me un onore, ho conosciuto anche Shanna, lì che era uno dei, ogni tanto veniva lo IED a fare, teneva delle lezioni, dei corsi, eccetera. Quindi una intuizione sicuramente positiva e poi un'esperienza, come dire, necessaria, insomma, per arrivare a questi livelli, perché, come dire, in questo c'è la differenza fra la periferia, insomma, e i capitali, no? Esatto, esatto. Appunto, ma Tonicampo è nato a Pedalino? Tonicampo è nato a Comiso, all'ospedale di Comiso, però i miei genitori, io ho vissuto a Pedalino. Ecco, da una piccola frazione della periferia, cioè, è possibile coltivare qualunque sogno, no? Sì, io, guarda, il sogno della fotografia, effettivamente, è nato tramite questa mia zia cieca, che io gli facevo da accompagnatore nei suoi viaggi, lei amava viaggiare, quindi dicevo, devo pagare una persona, portare una persona che me lo conosco, vuoi venire tu con me? Beh, volentiere, no? Avevo ovviamente, non è che potevo andarmi a divertire, perché mia zia, certamente, aveva bisogno di assistenza, quindi ristorante, hotel, ma finiva lì, magari ogni sera, qualche sera uscivo di nascosto, per andarmi a fare la mia serata. E mia zia lì comprò una macchina fotografica, ma facciamoci delle foto, ricordo. Stiamo parlando che io potesse avere forse sui 14, 15 anni, una cosa del genere, con questa macchina iniziai a fare immagini, fotografie. La prima fotografia che ho fatto, stranissima, eravamo a Roma, che il giovedì, se non sbaglio, il Papa fa l'udienza in piazza per, e quindi tutti quelli che hanno dei problemi vengono messi in prima fila. Quindi io mi trovai con mia zia davanti, io dietro, con la macchina fotografica. Quando arrivò all'epoca Giovanni Paolo II, io disse, ma adesso che faccio? Gli bacio l'anello, gli do la mano, gli faccio la foto. Decisi di fargli la foto, per cui la mia prima foto, fatta è questo faccione di Giovanni Paolo II, che era da poco, tra l'altro, che era diventato Papa. Sì, lui fu letto Papa nel 78. Sì, e da lì mi venne questa passione della fotografia. Cioè io poi iniziai a comprare delle macchine fotografiche qui. Quindi in quello scatto ancora non c'era il fotografo Tony Campo? No, mi sono accorto che con quel mezzo che avevo in mano, forse potevo tirare fuori quello che avevo dentro, no? Perché ho provato anche poi negli anni a provare a disegnare, a fare lo scultore, ma non fa per me. Ma insomma, questa zia cieca, la vera musa ispiratrice di Tony Campo? Secondo me sì, sì. Sì, appunto, nella genesi di questa esperienza, ma anche con i riferimenti precisi che facevi poc'anzi a proposito di questa mostra, no? Esatto, infatti l'ho fotografato anche lei, perché era giusto che lei ci fosse nella parte centrale della mostra. Bene, a questo punto di questo percorso di vita, ma anche artistico, se uno volesse, come dire, dare un senso unitario, complessivo, c'è distintivo a tutto ciò che è avvenuto e magari proiettarlo, cioè, sullo scorcio di futuro che ci rimane, insomma, cosa appare a Tony Campo? Cosa appare a Tony Campo? Allora, bellissima domanda. Della serie, io voglio continuare, ti rispondo così di getto, eh. Io voglio continuare a vivere qui nella mia terra, perché, allora, una cosa di sicuro che so è che voglio morire qui. Non mi piace altri posti o Milano, eccetera. E comunque cercare di educare, userei questa, che può sembrare anche brutta come parola, perché qui un po' in Sicilia manca l'essere educati a qualcosa di diverso. Cioè, perché qui si è convinti che tutti fanno così, quindi è così. No, bisogna anche in qualche modo andare, remare contro, no? Per capire se realmente, almeno io a Milano facevo così, ho visto che tante persone, anche ad alti livelli, non è che hanno in mente una cosa e facciamola, ma c'è il confronto a quattro occhi, sei, otto, dieci occhi, con altri personaggi di rilievo, proprio perché c'è, appunto, si cerca il confronto. Io qui questo, il confronto, anche ad esempio con i miei colleghi, non c'è, non c'era quando sono scappato e non c'è nemmeno adesso. Questo come si spiega? C'è un deficit di che cosa? Di voglia di studio, di applicazione, di senso autocritico, di mettersi in discussione? Non so, sono ancora in fase di capire qual è... Però voglio dire, io voglio stare qui, non ho paura a confrontarmi con un altro fotografo. Cioè, io se vedo una bella foto, è una bella foto, però non perché io sono fotografo devo dire che le foto degli altri non sono belle, solo le mie sono belle. Ecco, noto un po' questa cosa, no? Questa... ma a tutti i livelli. Ora, per dire, anche questo periodo di Natale, tante mostre sono state organizzate, fatte, ma potrebbe esserci anche un calendario tra i vari paesi, i vari comuni, in modo che la gente non si trova, ad esempio, due, tre inaugurazioni allo stesso orario, allo stesso giorno. Quello che manca qui, che credo che la prima TV è in grado di fare, secondo me, scusa se te lo dico, ma è proprio un ufficio stampa, che qui non sanno nemmeno cosa sia, proprio per educare la gente in qualche modo ad avere rispetto di tutte e di tutte le arti. Quindi, se da Natale a Capodanno c'è in programmazione una miriade di cose, cioè basta telefonarsi un attimo, scusate voi a Comiso avete una mostra il 26, allora mi sposto io il 27 a Chiaramonte, così, visto che bene o male, le persone che amano l'arte sono sempre gli stessi, possono girare nel circuito. Diciamo che allora il deficit è di spirito comunitario, cioè di coscienza della vita organizzata, e quindi anche dell'opportunità, insomma, di coltivare l'interesse collettivo, rispetto alla scorciatura individuale. Io faccio così intanto e basta, poi ciascuno faccia come crede, però in questo modo si perdono tante opportunità complessive. E soprattutto i giovani artisti, i giovani artisti che già per noi, alla nostra, quando noi avevamo 18 anni, era già difficile, perché mi ricordo arrivai a Milano, ma guarda che qui la moda non è più, è entrata in crisi, stiamo parlando di 20 anni fa, cioè non ci sono più i tappeti rossi per i fotografi, il branzino a pranzo, queste robe, ma io voglio fare il fotografo, perché sono venuto qui per mangiare il branzino, cioè c'è pesce fresco in Sicilia, non c'è problema. Però vedo i giovani bravi artisti che avranno molte più difficoltà di me per andare avanti in questo caos, soprattutto se non c'è un'organizzazione proprio, qualcuno che gestisca proprio questa cosa. La settore di campo oggi avesse l'età che aveva quando decisi di andare fuori proprio per realizzare questa sua aspirazione, oggi qua troverebbe le condizioni per poter rimanere e fare le stesse cose oppure no? Non lo so, non lo so perché dovrei essere con la mentalità di adesso, le opportunità di adesso, io adesso qui solo ci vivo, ecco mi sto confrontando adesso con alcune realtà, e quindi non lo so. Io credo che bisogna comunque, è giusto che uno apra i propri orizzonti, cioè andando anche a confrontarsi, cioè proprio col mondo professionale. Io all'epoca la moda in Italia e Milano, come Roma e la cinematografia, quindi io credo che sia dovuto almeno un soggiorno a Milano per capire qual è il mondo della moda, perché tutto si svolge lì. Si può cercare, oggi come oggi, si può cercare magari di portare anche un po' la moda più, ma già lo stanno facendo, perché ad esempio Dolce Gabbana hanno già usato varie location, come la piazza di Monreale per le loro sfilate, e quindi ormai si è un po' aperti in questo. Ecco, a questo proposito potremmo anche fare una riflessione. Noi parlavamo, come dire, dei giovani talenti, artisti, cervelli in senso lato, in fuga, perché non potevano realizzare compiutamente un risultato pari al proprio talento, no? Sì. Ma oggi è un tempo nel quale si va via a prescindere, cioè tutti devono andare via, tanti giovani vanno via, perché non ci sono le condizioni neanche per un lavoro di base, insomma, di un minimo di qualità. Insomma è molto triste questo, ma come si fa a invertire questa tendenza? Come si fa a invertire questa tendenza? Perché giustamente c'è un detto che dice chi ha l'oro com'è il detto, adesso non me lo ricordo, io un po' con i detti sono... Cioè io ritengo che qui in Sicilia noi abbiamo tutto. Certo. e quindi bisogna in qualche modo non andare a investire fuori. Investire fuori per magari farti una cultura, come dire, capire come funziona il mondo lì, ma poi noi in Sicilia potremmo fare tutto. Ma cosa ci manca allora? Cosa ci manca? Forse lo spirito... Lo spirito... Non lo so, Il senso di comunità. Il senso di comunità. Sì. Secondo me siamo andati troppo oltre tutto. Io mi ricordo, ad esempio, nel dopoguerra, la gente che di cosa... bastava avere un po' di pane per mangiare, Dei vestiti così e la vita era felice. Poi c'è stato questo... questo consumismo allucinante che in qualche modo ha distrutto tante cose, come tipo ha creato delle cose oscene, ha buttato giù tanti monumenti bellissimi, cioè bellissime, creando delle cose, alcune belle, alcune no. E adesso cosa è che ci comanda? Forse il Dio denaro? Che è questa catena che si è innescata. Cioè, perché basterebbe fermarsi un pochettino, pensare... Poi non lo so, Angelo, cosa... No, beh, ma per esempio se facciamo il raffronto, non so, con una realtà come quella milanese, al di là di come uno la voglio opinare, non c'è dubbio che Milano sia una città efficiente, organizzata, produttiva. Perché? Perché alla base c'è sicuramente la coscienza molto forte del bene comune, del valore collettivo, dello spazio in cui si vive, cioè si convive. Però adesso anche lì sta cambiando un po'. Forse in Sicilia, che è ricchissima di tutti i beni, come dire, di base, se no dal punto di vista storico-culturale, ambientale, naturalistico, manca proprio la coscienza del bene comunitario da parte delle persone, cioè per condividere e rispettare questo loro patrimonio. Esatto. E allora bisognerebbe lavorare su questo, anche artisticamente si può fare. Anche artisticamente si può fare. Cosa c'è da qui, dopo questa mostra, sulla quale poi torneremo per concludere, altri progetti artistici già accennati, visto che c'è un differimento temporale tra l'idea e la compiutenza. Ovviamente l'omaggio che devo fare ovviamente alla mia città, che è Comiso, città dove sono nato, e con Maria Rita Schembari, che mi ha dato la sua parola, quindi non può più tirarsi indietro, realizzeremo questa mostra durante la Settimana Santa, la festa qui di Comiso, che è a Eco in tutta la Sicilia, direi, e sarà questa The Passion, è sempre il titolo, non so perché in inglese, che tratta la passione di Gesù Cristo, però in maniera, in una forma moderna, cioè non c'è nessun elemento che richiami la croce, c'è solo due modelli, una modella e un modello, e un tessuto, su uno sfondo grigio, neutro. E' una mostra che queste foto le ho realizzate otto anni fa, e sono delle foto a cui ci tengo moltissimo, però il destino ha voluto, ci ho proposto a vari comuni, ma così, mi hanno non detto di no, ma ci pensavo sempre, tipo io andavo un mese prima di Pasqua, quindi non era logisticamente organizzabile una cosa del genere. Adesso invece la faremo a Comiso quest'anno, ed è un progetto a cui tengo molto. E poi un altro sarà a Palermo, tra luglio e agosto, agosto e settembre, adesso vedremo un attimino. Dopodiché io vorrei riportare queste mostre fatte, cioè queste foto realizzate in Sicilia, al nord. Cioè, come a dire, io dal nord sono andato al sud, adesso tutto questo made in Sicily, noi lo riporteremo a Milano, come dire, potrebbe andare anche oltre Milano, le porte sono aperte, proprio per far capire che non è il posto che fa l'arte, o non sono varie situazioni particolari che determinano la riuscita di una mostra, di un'opera. Bene, in conclusione, torniamo allora alla mostra, Chiaramonte, le motivazioni, il senso, lo avevamo già illustrato in premessa, ma c'è qualcosa che a Toni Campo si attende in particolare, anche proprio in relazione e quella motivazione che viene veramente dal profondo dell'animo che è la base di questo progetto. Io mi auguro che chi venga a vedere la mostra in qualche modo guardi la propria anima allo specchio, per capire, dargli solo un'occhiata, se ogni tanto uno ha una certezza, diciamo, vado a fare una radiografia generale, non si sa mai, ho qualche problema. Semplicemente questo, non pretendo nulla. e poi è una bella cosa da vedere, anche la location, la chiesa, grazie anche al mio compagno Francesco Palazzolo che è stato il set designer che ha organizzato l'allestimento e lui essendo anche un coreografo, quindi la musica a me ha aiutato sempre molto nel creare e quindi non potevano che mancare delle musiche dell'anima, stiamo parlando di Lisa Gerard, tutta una situazione ben studiata, eccetera. E quindi è un convolgimento a 360 gradi dell'anima. Quindi venita a Chiaramonte fino al 6 gennaio tutti i giorni, dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 22. Bene, grazie a Tony Campo, fotografo con le cui ultime parole di invito e di sollecitazione alla visita di questa mostra allestita a Chiaramonte Gulfi. Noi chiudiamo questo nostro incontro nel quale abbiamo cercato anche di fare emeggere il senso anche di una biografia artistica importante ma che sempre ha delle radici come dire che vivono insomma anche nella semplicità delle esperienze della vita con le quali ciascuno si può confrontare proprio per capire tra tante scelte che in ogni istante ci troviamo a fare quante opzioni diverse possibili ci sarebbero insomma nella determinazione degli eventi perché c'è sempre una componente come dire di autodeterminazione ma che deve poi fare conti sempre con la realtà delle cose. Grazie a Torricampo grazie a quanti ci hanno seguito il prossimo appuntamento come sempre con il Fatto del Giorno. Grazie a tutti i nostri spettatori